No, ma che succede? No, che ho fatto? Che succede? Cari italiani e cari italiani, buonasera. Vi porto il mio saluto a nome di tutta l'Unione Europea. Grazie signora von der Leyen, è un onore per me averla qui con me mai. Questo regalo... C'è un giorno memorabile nella storia dell'Unione, il ritorno in prima serata di grande artista, Lauretta Cocci. Bravo, brava, brava. Io la ringrazio, grazie. Volevo solo, magari, se mi permette, non si offenda, il nome non è Lauretta Cocci, ma Lauretta Gocci, si è sbagliata. Si è sbagliata. Geerti, ruhig, bitte. Io sono qui stasera per portare il saluto affettuoso di tutti gli stati membri di Unione Europea. Austria, Belgia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Romania, Ungaria. Grazie. Grazie. Grazie, Peter. Cara Cocci, io volevo farle i complimenti, perché anche in questa sua varietà sta seguendo una politica di risparmi. Ad esempio, la scelta coraggiosa di non avere un'orchestra. Ebbè, non è stata una mia scelta, sa? La scelta di rinunciare a una maestosa scalinata, tutte i showgirl scendono di scalinata e qualche volta cadono anche. È un sifario di veluto broccato. Anche questo non è di peso da me, nel senso che sono stata... La scelta più coraggiosa di tutte è quella di rinunciare ad avere un parrucchiere, di presentarsi al pubblico così come appena scesa di letto. No, veramente, guardi, io sono stata due ore dal parrucchiere e... Lei ha capito il spirito di sacrificio. La grande sfida raccolta dal suo paese, dal governo italiano, con obiettivi del suo... P, N, R, R... Piano di ripresa e di resilienza. Piano nazionale di ripresa e resilienza. Capisce? P, N, R, R. Beh, devo dire che il nome è più brutto e difficile di trovare. Ma ora vorrei concludere questo nostro collegamento con una frase, una citazione di grande filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, che fa così. Sì. Sì, si risperi, la prego. Un saluto, un saluto, cara Lauretta, ancora tanti auguri di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungaria. Grazie, grazie, arrivederci, arrivederci.